Buongiorno, previsione lunga oggi, dobbiamo prendere anche la giornata di lunedì, quindi non mi perderò in chiacchiere, però vediamo cosa è successo nelle ultime 24 ore perché l'idea ce la dà. Questa era la situazione di ieri con delle nuvole piuttosto basse, non troppo intense, presenti sull'Italia, ma la giornata era prevista piuttosto chiusa, piuttosto grigia, piuttosto piovosa, almeno al centro nord. E per metà giornata, più o meno, si era rimessa su quel famoso binario di cui parlavamo, guardate quante nuvole al nord, al centro. Quelle del sud sono un po' rotte, un po' frastagliate, quindi qualche schiarita c'era sempre, però il passaggio di nuvole c'era sicuramente stato. Poi in serata, in parte compattano queste nuvole, in parte lasciano delle zone come sul medio-tirreno, però complessivamente rimangono sull'Italia, cioè il corpo nuvoloso nel suo insieme rimane sull'Italia, così come ci rimane in parte durante la notte, che è appunto l'immagine successiva, però spostandosi piano piano, vedete al nord ancora molte nuvole, però si spostano sia verso sud che verso est, e questa mattina troviamo una situazione apparentemente tranquilla, poi come al solito dobbiamo fare queste precisazioni. Ci sono molte nuvole al nord, ma sull'Italia, queste zone che sembrano in realtà proprio con un cielo pulito, e attenzione, guardate queste nuvole come si stanno avvicinando da ovest, perché quelle sono il nostro futuro. Vediamo anche con un'altra immagine da satellite presa dal sito dell'aeronautica, in cui vediamo questa nuvolosità un pochino più evidente, le macchie colorate sono nuclei intensi, quindi potrebbero dare per esempio temporali, vedete che ci sono a est, quelle sull'Italia sono piuttosto piccole, sono piccoli sviluppi di nuvole un pochino più alte. A questo punto previsione per la giornata di oggi, abbiamo detto un po' meglio di ieri, nel senso fenomeni un po' meno estesi, un po' meno intensi, lasceranno al sud e sulla Sardegna soltanto nuvole, qualche pioggia residua rimane per quello che rimane il centro, e il nord, soprattutto il nord-est, direi, però tenete conto che la tendenza dopo una specie di intervallo, cioè la giornata di oggi andrà gradualmente addirittura a migliorare un poco, però abbiamo visto quelle nuvole in arrivo e quindi domani, l'abbiamo detto, è forse la giornata peggiore di tutto questo periodo di feste, perché avremo maltempo su tutto il nord, su tutto il centro, possibilità di temporali, qualche pioggia al sud almeno della penisola, forse non in Sicilia, quindi giornata di nuovo chiusa, non continuamente, non è un maltempo persistente, però sicuramente sull'apri e chiudi ci sono le piogge e ci può essere anche qualche fenomeno un po' più intenso. Tendenza a miglioramento sulle zone di nord-ovest, e questo ci dà la tendenza per la giornata di domenica, che vediamo, migliora il tempo domenica, migliora un pochino ovunque, lasciando dei nuclei, il primo nucleo è quello sulle zone di nord-est, insisteranno di più le nuvole, è più facile che ci sia qualche pioggia, l'altra zona, l'altro nucleo è quello del medio-basso tirreno, con queste linee gialle le abbiamo un pochino identificate, piogge residue sulle zone di nord-ovest, ma tenete conto che a fine giornata di domenica e a inizio della giornata di lunedì la situazione non è male, non è male, non è tutto pulitissimo, però insomma con qualche nuvola forse ce la accaviamo, nella giornata di lunedì, in giornata però, tenete conto che arrivano altre nuvole da ovest, prendono prima Corsica e Sardegna, poi a seguire, ma direi a questo punto non prima del pomeriggio, quindi la giornata un po' è salvata, anche sul medio-basso versante tirrenico, possibili isolatamente, cioè due situazioni completamente diverse, qualche breve pioggia in Sicilia e un tempo appena un pochino più incerto per quello che riguarda il nord, ma diciamo che le schierite ci sono sempre, quindi tempi tranquilli, l'avevamo detto, tempo stabile non ce n'è all'orizzonte, neanche per la prossima settimana, quindi prendiamoci questo periodo di festa, domenica le temperature scendono un poco, ma mediamente rimangono su valori assolutamente compatibili con questo periodo dell'anno, non ci si può sicuramente lamentare.